Ciao a tutti, sono Filippo Piazza, faccio il quinto anno di giurisprudenza e questo è il mio quinto anno come borsista perché ho sempre ricevuto il premio di merito per giurisprudenza. Questo premio per me è sempre stato un onore, oltre che un motivo di orgoglio perché il mio lavoro viene in qualche maniera ripagato, i miei sforzi vengono ripagati e ho sempre utilizzato questo premio per fare qualcosa che mi possa aiutare a crescere sia da un punto di vista accademico che umano. Quindi grazie a donatori perché il vostro contributo è stato per me un contributo di vita e spero un giorno di poter essere dall'altro lato e poter aiutare anche io qualche giovane che crede in se stesso e fargli sapere che c'è qualcuno che crede in lui. Grazie a tutti.